Bella domanda, perché non si guarisce dal miloma e perché non si guarisce da tante patologie oncoematologiche? Perché la terapia, l'autotrapianto riesce a ridurre, si spera quanto al minimo la malattia, ma una cellula resta indovata a qualche parte per motivi che ancora oggi non si conoscono, risposta semplice anche la mia alla domanda, poi a un certo punto ricomincia a proliferare. Quindi i nuovi farmaci e l'autotrapianto cercano di ridurre al minimo la malattia minima, però è chiaro che i controlli vanno fatti perché qualche cellula nel miloma resta, si parla soprattutto nelle leucemie della cellula staminare leucemica, probabilmente lo stesso anche nel miloma, le terapie riescono a distruggere tante cellule proliferanti, però c'è una cellula neoplastica qui esciente, quella che poi magari a distanza di anni riprende per motivi sconosciuti a proliferare e determina quella che è la recidiva della malattia.